Il recupero della memoria storica è un dovere civile, è fondamentale per una comunità ricordare le proprie radici e soprattutto una pagina sconosciuta come quella dei Vespri Soveritani del 1806 che invece è fondamentale in tutta la storia del Mezzogiorno. Proprio da questi luoghi partono le scintille della rivolta che poi infiammò tutto il sud fino al 1815 in una guerra sconosciuta che sui libri di scuola non viene riportata perché secondo la vulgata comune i francesi erano venuti nel Mezzogiorno a portare Liberté, Egalité e Fraternité, mentre in realtà erano gli ennesimi occupanti di turno. Soveria Mannelli c'è invece un episodio fondamentale che è l'inizio delle insorgenze del Mezzogiorno. Abbiamo voluto ricordare questa pagina di storia dimenticata per rinverdirla e dire alla popolazione del nostro comune, a quella della Calabria, a quella del sud che dobbiamo stare in una rivolta continua per rivendicare i nostri valori, i nostri interessi, la nostra identità, la nostra storia. Grazie. Grazie.